La prima lettura Ci narra di San Paolo e San Paolo Che tornati a fare un piccolo, diciamo così, briefing Un santo briefing della comunità dove erano partiti E prima fanno un'esortazione E vedremo adesso che cosa consiste E poi si ralleggono del fatto che il Signore Che era benedetto nella commissione apostolica Prendo anche le porte dei pagani E della loro condizione Nell'esortazione dicono queste parole State salti alla fede Perché dobbiamo entrare nel Regno di Dio Attraverso molte tribolazioni Questo è il primo punto Il secondo, ci sono proprio La seconda lettura La seconda lettura ci mostra la Gerusalemme Roma Quella a cui tutti siamo diamati Noi stiamo vivendo il tempo di Pasqua Il tempo di Pasqua è l'immagine del paradiso E' ciò che ci ricorda che noi qui sul pianeta Terra Io lo dico sempre ai ragazzi del cadevismo Anche se sono molto giovani non ci pensano Qui ci possiamo stare 80 anni 80 anni fuori sermonita Perché sermonita 90, 95, 100 Qui c'è l'età abbastanza longeva 110, d'accordo? 110 anni Solo perché c'è un problema Un problema che non è un problema Una cosa bella Anche se passiamo per sorella a morte corporale Noi non moriremo mai Mai E dobbiamo assolutamente porci la domanda Di cosa c'è dopo sorella a morte corporale? C'è nulla? O c'è qualcosa? E se c'è qualcosa? Cosa è? E' qualcosa di bello? O è qualcosa di brutto? O è tutti e due? E come si arriva a quel qualcosa di bello? Se c'è? Allora La seconda lettura ci dice Guardate che bella la Gerusalemme nuova Le porte ce le aperte il nostro Signore E non ci messi risolto Dice La dimora di Dio con gli uomini E gli abbiderà con loro La visione beatifica La presenza interrotta di Dio Che contiene tutte le gioie Tutte le felicità possibili e immaginabili Egli sarà il loro Dio Il Dio loro E poi Attenzione Asciugherà Ogni lacrima dei loro occhi Non vi sarà più morte Nel lutto Nel lutto ne affanno Perché le cose del primo sono passate Ma capite proprio Come sono speculari Per la seconda lettura Per entrare nel lutto nello di Dio Può passare attraverso molte tripolazioni Ma una volta che il nostro Signore Sarà più piaciuto È tutto finito Si adorano le porte della felicità senza fine Allora In realtà Queste due letture In maniera splendida Ci fanno vedere le due facce Del mistero pasquale Come sapete no C'è la novesima E c'è il tempo di Pasqua C'è il venerdì santo E c'è la domenica di Pasqua Queste due realtà Sono indisgiungibili L'uno dall'altro Anche se a noi Evidentemente Ed è umanamente comprensibile Ci piacerebbe di più Ci fosse soltanto Il tempo di Pasqua E il tempo di piacere e di godimento Senza passare attraverso la prova Così non è Allora Perché molte tribolazioni Per entrare nel Regno di Dio Perché questa terra La chiamiamo nella Santa Vergina Una valle di lati Ci sono delle inevitabili prove della vita Ma c'è anche quella cosa Che a noi è un pochino più E che ci collega adesso al Vangelo Che consiste in questo Ci sono delle difficoltà Inerenti alla vita cristiana Anche questa è una cosa Che cerco di spiegare In termini comprensibili A giovani A noi dobbiamo pensare a una cosa Come diceva il buon San Francesco La via del bene È difficile Da comunicarsi Poi una volta che tu la compiunta Senti la gioia e la pace del cuore Quando noi dobbiamo denunciare A qualche cattiva penudine A qualche vizio A qualche peccato gradevole Ci costa Perché ci sembra di perdere qualcosa Tu lo fai E poi stai bene Però che vi diceva La difficoltà Superata la quale Ti sta bene Però no Tutti Hanno la forza Di superare la difficoltà La via del male È il contrario Perché non c'è nessuna difficoltà Per correrla Quindi è facilissimo Non c'è Nessuna sofferenza Per cui devi passare Basta semplicemente Che a secondi Tutto quello che ti passa Per la testa Poi però Stai male Tante persone di oggi Sto male 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 Dubbitoriosi Perché sto male Perché la via del male Ripeto È facilissima Da percorrere I maestri di spirito Dicono La via che porta La produzione È in discesa Tranquillissima Senza nessun ostacolo Trastricata di noce Di fiori Di ogni apparente Balocco Ecco Poi però Dietro con la discesa C'è il precipizio Tu con la vedi C'è il burro Invece La via che porta al cielo È un po' Come quella delle nostre montagne Qui Ha sempre viso Quindi è un po' È una erita Dove qualche tratto C'è Qualche Serie difficoltà Si fa fatica Ecco però Sulla cima C'è Aria pura D'accordo Aria celeste Aria di cielo La chiesa Nella sua sovidenza Ci fa vivere In questi due tempi Idurgici Questa realtà Che deve diventare La nostra vita In particolare Ora ci fermiamo Sul cuore del Vangelo Il comandamento nuovo Di Gesù Amatevi I uni gli altri Come viviamo a voi Attenzione al contesto In cui Gesù dice queste parole Il Vangelo Comincia così Quando Giuda Fu uscito dal cenario Gesù disse Il figlio è stato Volificato E vede un comandamento nuovo Ora Giuda Chi era E cosa ha fatto Gesù Nei confronti Di Giuda Non c'è Cosa Di commento Giuda E fu Il tradito Gesù In una maniera Più brutta E' più parolta Che si potesse concepere Immaginare Gesù ce l'ha avuto Giuda A fianco Con lui Per tre anni E' vissuto con lui Gli ha dato la sua parola Ha fatto l'ultima cena Loro E'va appena ordinato Gesù Insieme agli altri apostoli Gli ha dato la comunione Se vede che Gesù Ha fatto la comunione Nell'ultima cena Quindi capite Non solo Gesù si era messo A piedi Di Giuda Come degli altri apostoli Quasi supplicandoli Per favore Fatti volete bene Non andare A rovinarti da solo Giuda resiste Fino alla fine esce E Gesù sapeva benissimo Che stava uscendo Per andare a chiamare Le guardie Che sarebbero andate Alla insieme A prenderlo E' in questo contesto Che dice Amatevi Gli un e gli altri Come io vi ho amato Che cosa sta dicendo Direttamente E' facile amare Come uno come Giuda O no E' facile Mettersi ai piedi Del tuo traditore Lavarli Piangerci sopra E dargli fiducia Capito Perché prima che uscisse L'ha ordinato Gesù E' una cosa facile Non credo Capite però Gesù Con tutti i buoni Maestri Non dice Armiamoci E partite Prima lo fa E poi lo insegna Anzi dice Questo è l'esempio Che vi ho lottato Fate con me E attenzione Questo comandamento E' così importante Questa è un'altra bella domanda Qual è il segno Che non destra e manca Sparlo male Per tutti Il nome di Dio Il nome di Dio è bestemmiato Canonizzato Da Papa Francesco Ha parlato di questo E chiama La maldicenza Il terrorismo Delle chiacchiere Più dovrebbe Una smidragliata Pigliacca Dall'altro E quando La stendi Gli togli tutte quante Le penne Poi vi ha fatto Una passeggiata Poi cominci A spargere le penne In giro Tutta l'ora Poi ridurre Questo sarà I santi A volte sono un po' strani Questo però lo fa Via sta cardinale Gli leva tutte quante le penne E le sparge in giro Tutta l'ora A ridurre una E gli dice Bene Adesso ho una penitenza Modo assorbo Però ho una penitenza Ad un giorno a giro Tutta l'ora Arriva Tutte quante le penne E gli arrivi a piccini Tutti quanti E come faccio Questo è il frutto Delle chiacchiere Che tu fai Perché tu spegni Viva la persona E poi la chiacchiera Perché si parte La chiacchiera Perché se io parlo Con Tizio Male di Cario Cario parla male Con Semprone E Semprone Parla male con L'avete mai fatto Il giochetto Dei bambini No? Quando una chiacchiera Lo inizia a girare Dopo ci sarà Un giochetto Che farsi Con i ragazzi No? Che si dice Che fanno scelta E si dice Corretta una parola Per esempio Andrea Andrea Alla fine A ritorno All'origine Che è diventato Se fa bene Armata D'accordo? Se fa bene Ma potrebbe anche Pure essere diventato Nicola Capite che cos'è Il terrorismo Delle altre Camatevi Con gli altri Camati Capite? Il fuoco Va spento Questo è soltanto Uno dei tantissimi Esempi Non è che ci vuole Un granché Però Su questo Dobbiamo convertirci Tutti quanti Questa parola Dobbiamo ricordarci Siamo riscevoli Credibili di Gesù Se dalla nostra persona Trasuda Amore Verso il prossimo E questo Trasuderà Se la nostra Unione con Gesù E con Maria È autentica Perché andare a messa Tutti i giorni Non basta Ma se vado a messa Bene Tutti i giorni Così come se dico Rosario Bene Tutti i giorni Sicuramente Sarà molto più facile Chiamerò il mio prossimo Con gli stessi cuori Di Gesù E di Maria Siamo dati Gesù Sempre si arrodato Grazie.